o forse in quella strada dopo ancora 076 077 no non è questa no gli sparavano sanguinava quindi forse questa spostatevi tutti spostate tutti verso l'altro elicrash ok rettifico 073 066 aspettate che c'è qualcuno che striscia hanno zombie qua hanno zombie ricevi qui Andrea? 0? 073 066 oh verso il deer stand io sono l'unico all'altro elicrash quello lì è vicino a voi eh Mirko perché ci sono ancora gli zombie là in fondo penso che siano i suoi vorrei che si sia sdraiato da qualche parte per camperare sta pisciando addosso come c'è più a nord ora sta a nord e c'è un deer stand di lì è rock dici? vedo rock ma non vedo Mirko che non è subito e non vedo niente non vedo né zombie né player la foresta a nord voi dal punto che vi ho dato quanto state? 526 metri 596 rock ridammelo un po' scusa quale punto? ma adesso sono dietro al deer stand dimmela meglio 073 066 elicottero Little Bird ho stato sopra corca sono... più a sud-est eh sono io infatti mi devo togliere dai coglioni da qua no non sono tuoi rock sei più distante di me sono miei fra sono miei si si sono in tre niente mi sposto e non so dove cristo andare questo mi sa che si è spostato alle ricresce di prima insomma quanti caziericas ci sono? 3 o 4? 3 3 3 sono anch'io dentro al bosco ragazzi Little Bird dove? verso corca giusto? si si eccolo eccolo google ovo è sopra di me avrà spottato è andato a vedere l'altro helicrash quello più a nord è il primo dove Andrea ha ucciso la vittima esatto, no, l'altro il secondo quello tra i due oh, c'è un allelicrash c'è un allelicrash più a nord qual è quello lì vicino quello più a nord è lui, è lui, è lui aspetta, se lo riesci a prendere sennò non ha un rumore molto vicino aspetta, aspetta dai ciccio preso uno si muore sta sparando? io dai dai morto è ancora da lui è ancora lui l'elicottero è qui vicino a me com'era vestito? civilian civilian eh, ma chiaro? eh blu vabbè, ognuno vede i colori diversi oh, no cazzo dici? si, ognuno vede i colori diversi colori al vestito? sta atterrando dove? l'elicrash è un allelicrash quello più a... a dove a stitipo mi piace lo sudi aspetta, questo me lo scasso non andarlo a luttarlo eh oh, ci son io, ci son io, ci son io porco dio dai Mirko, su dai tu cecchina che io faccio soppressione dov'è che ha atterrato sto tizio? fai cazzo eh sto qui? con l'elicrash si, zitti, zitti, zitti preso morto grande non ho visto se era uno o se erano due eh attenzione hai sparato l'elicrash vicino a 9 giusto? è una morta strada quello a sud ovest ragazzi ok ho capito intanto vedi è buono ce lo capiamo quello più vicino a stare si, si, è stato un colpaccio scendete giù, scendete giù grande tutti? si, si, si ok ce n'era uno solo eh